Ready, action! Ciao, sono Simone Addari, ho 25 anni e vengo da Atri. Ho deciso di studiare recitazione perché sento la necessità di esprimere delle parti di me che tengo sepolte nella vita di tutti i giorni. Ho scelto Action Academy perché mi sembrava un'accademia molto valida rispetto alle altre. La mia giornata tipo è... mi alzo la mattina, esco di casa per andare in accademia. Poi quando torno a casa mangio e studio. La sera magari guardo un film se non l'ho visto al pomeriggio. Ecco, mi sarebbe molto piaciuto recitare nel Signore degli Anelli il mio tesoro. Il mio regista preferito è Stanley Kubrick. Mr. Kubrick, can I be, please, one of your character? Se vuoi diventare un attore, devi imparare ad avere una certa sensibilità verso tutto ciò che ti circonda. Adesso il mio lavoro si è compiuto, da Action Academy un saluto.